Ritorno a casa per i marittimi campani sequestrati in Nigeria il 23 dicembre. Ritorno a casa accompagnato da faretti, telecamere, microfoni, una ininterrotta sequenza di scatti di macchine fotografiche. Il comandante Emiliano Astarita e Salvatore Mastelloni sono arrivati a piano di Sorrento. Il terzo, Giovanni D'Alessio, è partito per l'Argentina dove raggiungerà la sua compagna. Prima di arrivare a casa dei genitori, Astarita lungo la strada ha incontrato moglie e figli a chi gli chiedeva se ritornerà in mare. Il comandante ha risposto che per ora voleva solo abbracciare la sua mamma. Loro, tutti e tre, lo hanno detto a più riprese. Hanno temuto per la loro incolumità i tre marittimi. È accaduto quando i rapitori giocavano con le armi, le pulivano, sparavano in aria e loro erano spaventati. Hanno temuto di morire e sono stati trattati male. Hanno ribadito a più riprese. I tre marinai italiani di Asso 21, già all'arrivo a Roma, erano apparsi esausti di fronte alle telecamere accompagnati dal ministro degli esteri, Giulio Terzi. Il capo della Farnesina aveva raccontato di momenti di pressione quando un gruppo armato aveva rapito i tre ed aveva voluto precisare che l'Italia non ha pagato alcun riscatto. Ma questa è già storia passata. Per i tre uomini ora il tuffo nel calore degli affetti, quelli veri, quelli che avevano davvero avuto paura di non poter mai più guardare negli occhi. Sempre è stato brutto, non lo auguro a nessuno. L'importante è che siamo a casa. Vi ringrazio, ringrazio tutti quelli che ci hanno permesso di poter tornare. La Gusto Fescior, autorità nigeriane, autorità italiane. Grazie a tutti. Come vi hanno trattato? Non bene, non bene. L'importante è che non ci hanno ferito, questo è il meglio. Ritornerete in mare, chiaramente. Non è stata soltanto una brutta avventura. Questo non lo so, si vedrà. Ora vado ad abbracciare mia madre che non è stato un po' preoccupata. Grazie. Anche per lei si vedrà? Sì, purtroppo è il nostro lavoro. Lo facciamo, quindi ritorneremo. Magari non in Nigeria, ma ci ritorneremo. Quando si è capito che sarebbe finita? All'ultimo momento, quando siamo arrivati qua praticamente. È finita. È stato estenuante anche questa giornata a Roma. Sono tre giorni che siamo in giro, sì, anche questa a Roma. Comunque vi ringraziamo di tutto questo. Grazie. Grazie.